prosegue il ritiro azzurro a castel di sangro nel weekend accorsi numerosi tifosi a seguire la squadra partenopea noi di mundo napoli abbiamo raccolto alcune considerazioni dei tifosi tra chiacchiere di mercato e sogni quasi realizzabili nuovi acquisti ramani osimen cessioni allan colibali allora per quanto riguarda all'anno ormai secondo me che è andato via tempo fa riguarda a colibali sarebbe una perdita sostanziosa diciamo mentre ho visto l'altro giorno sono stata agli allenamenti osimen vero pitbull ma mamma eccoci teno e poi ramani racmani è un po' un difensore messi stanotte ha annunciato di lasciare il barcellona un piccolo sogno a napoli l'erede di maradona è sempre realizzabile però ci farebbe contente a tutti quanti e speriamo che al presidente gli venga questo capriccio e magari ci fa sognare a tutti prego grazie a tutti